Musica Sempre Alex che salta Ah, io stesso non avrei potuto fare di meglio Perché è ora del carbone? Ora che sua altezza ha finito con voi, possiamo tornare al lavoro Ti prego dimmi che col carbone ci facciamo un barbecue di Julian Abbiamo trovato uno non troppo bagnato Alex e Marty, prendetelo Andate, prendetemelo, dai, dobbiamo cuocere Julian sulla brace Quindi, Marty, che cosa dobbiamo cercare? Il carbone, ok Dove lo troveremo il carbone? Eh, beh, certo Beh, sicuramente le scimmie non offrono un buon servizio aereo Sicuramente è migliore il servizio aereo delle scimmie di quello londinese Dove si trova il suddetto oggetto? Mmm, si trova di là Ok 90% dovrò fare un giro inculato come al solito Eh, beh, certo Dovrò fare un giro del cavolo come al solito Sviare da tutte le cavolo di guardie Allora, lì vedo un ponteggio Vedo un ponteggio e sicuramente Alex può fare il doppio salto Quindi Idea numero uno è che Alex possa salire qua sopra Giusto? Idea bocciata, perfetto Certo, io non mi ricordo che Londra avesse avuto tutti questi alberi fluorescenti, eh Lo ripeto Allora, io come Faccio di qua Perfetto Londra io me la ricordo tutta buia, grigia Tutto con i dentoni Perfetto E questo Va giù Scusami Spiegami il concetto, Marty Per il quale io dovrei usare quella scatola se qui mi hai appena buttato giù questa Spiegamelo Allora, saliamo queste scalinate così assù Certo che Cattedrali imbucate nel buco del mondo Infestate da animali, come sempre Questa è Londra, gente Guarda come saltellano gli animali sopra i tetti londinesi Perfetto Quindi, quindi, quindi Allora, se siamo saliti di qua Vuol dire che Alex ci arriva Perfetto Dov'è? Dov'è che sei? Eccoti qua Uno, due One, due e tre Uno, due e tre Ecco fatto Seguimi, Marty, per favore Stavo per dire seguimi Alex Ma Alex ce l'abbiamo già qui Alex è un bel nome Sia per il maschile che per il femminile Allora, quindi Dobbiamo arrivare con Marty da questa parte E con Alex come ci arriviamo? Non lo so Iniziamo ad arrivarci con lui Vai Marty Trova il modo per far arrivare di qua Alex, per favore Ti giuro Ti giuro Ti giuro Marty Che se Se non arrivavi qua per qualsiasi cazzo di motivo Per via dei piccioni Ti giuro che ti menavo Ok, quindi ci arriva Perfetto Pensavo Ti giuro Non ci avrei mai pensato Che avrebbe usato Questi per far arrivare Alex Mi hai sorpreso, gioco Come sempre hai Qualche sorpresa Molto spesso negativa Per me Quindi Palloncino Palloncino Niente più Niente meno Tanti collezionabili Ormai abbiamo capito Che in questo gioco Ha lo stesso valore Della moneta londinese Lo so, lo so Sto andando di cattiveria Sui londinesi Ma chi non lo farebbe? Ditelo Sono voluto uscire Dalle Dall'Europa E poi vogliono avere Ancora i nostri diritti Vaffanculo londinesi Vaffanculo Alex spaventa I piccioni Che per qualche motivo Questi piccioni Sono talmente potenti Che resistono A qualsiasi cosa A meno che Non gli rugisci addosso A meno che Non gli rugisci addosso Questi piccioni Sono immortali Punto Dov'è che devi andare Tu? Di qua No Di qua Sei arrivato dall'altra parte Bravissimo Con questo Posso calciarlo Non posso calciarlo Però Scusami No ti prego Fammi ci arrivare Fammi ci arrivare Voglio arri... Alex Vieni qua Che tagliamo un casino Ti prego Fammi Fammi ci saltare sopra Uno Dai Ci sei appena saltato Con una zebra Puoi farcela anche tu Leone Ecco No 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 Ecco fatto Perfetto Più semplice di così Che tra l'altro Probabilmente Stupido io Ci sarà stata una strada Molto più semplice Così ma Detto sinceramente Mi ha divertito Di più fare così Marty Tocca a te Vatti a fare un cannone Che tanto la tua voce È quella di shorty Quindi ha senso quello che ti dico E comunque Ricordiamolo Quello non è un cannone È una bettoniera Eppure funziona con uguale Come ho detto Questo gioco La cosa positiva Del gioco appunto È il fatto Che ti fa sfruttare due personaggi In contemporanea Tra l'altro Puoi usare questi due personaggi Anche per il multigiocatore Cosa che a me non interessa Perché gioco da solo Però Già nell'insieme Che tu Sfrutti costantemente Due personaggi Anche solo per avanzare Nella storia In questo modo A livello di gioco Ti dirò Fa cagare Perché È molto semplice Come gioco Certo Alcune cazzate A meno che non sai Dove andare Veramente Non ci arrivi Veramente Credetemi Ho fatto fatica io Penso a un bambino Di sette anni Però sotto il punto di vista Di gameplay Il fatto di appunto Sfruttare No Ok Due personaggi In questo modo È un'idea Talmente semplice Ma funzionante Che ti giuro Più giochi Dovrebbero sfruttare Questo concetto Secondo me Come faccio A proseguire Alex Tocca a te Boh Forse dovevo arrivare Semplicemente lì Con Marty E poi aprire con Alex Probabile Te l'ho detto Alex Come nome femminile Ci sta Un casino Come nome maschile Non mi fa impazzire Conoscevo solo una persona Che si chiamava Alex Nella mia vita Era il fratello Di una mia amica Un po' antipatico lui E abbiamo ottenuto Il suddetto carbone Quindi Ti dirò Non è stato neanche difficile Meno di nove minuti Ce l'abbiamo fatta Ale È incredibile Come ci buttiamo Da queste altezze magistrali Eppure Non ci facciamo nulla Aspetta che prendo Questa stella Giusto Per soddisfazione personale Tanto Gli oggetti di questo livello Proprio li ho missati Ma proprio Volontariamente Tanto Da dopo che mi avete detto Che non servono A una beata cavolo di minchia Sto cercando anche Di evitare Di prendere il maggior numero Pam pam Sarà lo spettacolo Migliore di tutti Ma prima Devo avere Quelle provviste Di cui Va bene Corriamo con un ippopotamo E la giraffa Che sono fidanzati Tra l'altro Ricordiamolo Io conti Senza malizia Seriamente Ma cosa esce Tra un incrocio Tra un ippopotamo E una giraffa Esce un ippopotamo Col collo lungo O una giraffa Che pesa Tre tonnellate Seriamente Cos'è Cos'è esce fuori Da questo ibrido E andiamo Con gloria Metti caso Che mi devo buttare In acqua Andiamo di qua Bastardo Mi ha rubato I palloni Guarda quanti palloni In acqua Aspetta 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 No Certo Come no Melman Guarda Tutto quello che dici Io ti dirò Sì 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 Hai ragione Hai proprio ragione Melman Allora Prendiamo Tempo Che poi Ti regalano Cinque secondi Cosa me ne devo fare Di cinque secondi In una mappa Grande quanto Il duomo Porca troia Oh Aspetta Allora Cerchiamo di prendere Il maggior numero Di cose Che danno Più punti Possibili Fanculo Le cose piccole Ecco qua Direi che bastano Come sempre Il tempo Ma risicato Ma risicatissimo Quanta Scusami Cosa Quanti ne dovevo prendere Per arrivare a cinque stelle Con quel poco tempo Che avevo Ma manco Avessi avuto Dieci minuti Quanti ne dovevo prendere a cinque stelle Quanti ne dovevo prendere a cinque stelle